19 marzo 1813, nasce in Scozia David Livingstone, missionario ed esploratore, è stato lo scopritore nella regione fra Zambia e Zimbabwe in Africa di spettacolari cascate che in onore alla sua regina battezza Cascate Vittoria. Nel 1866 Livingstone inizia la ricerca delle sorgenti del Nilo, per mesi si perdono le sue tracce. A ritrovarlo sarà l'esploratore Stanley. Livingstone muore in Zambia nel 1873 senza aver portato a termine la sua ricerca.